Buongiorno a tutti, sono il dottor Stracqualur Simirco, uno psicologo psicoterapeuta dell'età evolutiva dell'Istituto di Ortofonologia. L'intervento di oggi riguarderà come argomento alcuni dei questionari che fanno parte del protocollo ideato dall'Istituto di Ortofonologia denominato progetto Tartaruga e finalizzato sia alla diagnosi e alla valutazione globale specifica per i disturbi dell'ospetto autistico che alla definizione di un progetto terapeutico individualizzato e alla ricerca scientifica. Prima di addentrarci però nello specifico dell'argomento mi sembra doveroso fare una premessa, ovvero che trovandoci al cospetto di un disturbo molto complesso per quanto riguarda la varietà delle manifestazioni patologiche e atipiche e per la molteplicità dei fattori eziologici è necessaria la presenza di un'equip multiprofessionale affinché sia possibile arrivare ad un corretto inquadramento diagnostico. L'equipe che è stata formata con tale obiettivo è composta da diverse figure professionali quali il neuropsichiatra infantile, un neurologo, un otorino laringoiatra, un osteopata, uno psicologo psicoterapeuta dell'età evolutiva, un logobetista, uno psicopoticista che svolgono un'osservazione sui comportamenti del bambino tenendo conto anche di tutta una serie di fattori che vengono riferiti dalle figure di riferimento e tutto questo per poter stilare un profilo di sviluppo individuale e globale. Ogni professionista ricopre un ruolo ben definito e integrato a quello degli altri per poter strutturare un processo diagnostico che rappresenta il primo step del progetto Tartaruga che in seguito porterà, come ho già anticipato, alla strutturazione di un intervento terapeutico. Nello specifico il progetto Tartaruga nasce nel 2005 come modello incentrato sia sull'attività di diagnosi, attività terapeutica e attività di ricerca e questo grazie al fatto che l'IDO, essendo un centro accreditato con il sistema sanitario nazionale, ha la possibilità di seguire all'incirca 100 bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico in regime di convenzione e ciò ha permesso all'istituto che dal 2005 ad oggi l'istituto ha potuto monitorare l'andamento terapeutico della dirata dai 4 ai 6 anni dei bambini attraverso dei follow up. Questo ha permesso di inserire nel corso del tempo il nostro modello di intervento definito derby, ovvero un approccio evolutivo relazionale a mediazione corporea con il quale si intende specificare sia la modalità dell'intervento che la sua cornice teorica differenziandolo da tutta una serie di interventi comportamentali che fanno parte dell'attuale e panorama scientifico. Allo stato attuale dobbiamo considerare il fatto che le linee guida approvate dall'istituto superiore di sanità riconoscono la validità e l'efficacia di interventi considerati evidence based, ovvero di stampo comportamentale che si basano unicamente su dati quantitativi. La sfida invece dell'istituto di ortofonologia è quella invece di proporre un'alternativa a questi modelli sottolineando l'importanza dei dati qualitativi e non sempre statisticamente validabili. Si parte dal presupposto che la specificità di un bambino e la propria unicità non può essere racchiusa e omologata all'interno di approcci manualizzati. Quali sono gli scopi del progetto Tartaruga? Quello di definire un percorso terapeutico e funzionale specifico per ogni bambino. In questo caso dobbiamo considerare la presenza delle figure genitoriali che verranno inserite all'interno del nostro intervento terapeutico e che faranno parte attivamente del processo terapeutico del bambino e questo per poter fornire alle figure genitoriali strumenti e modelli efficaci e funzionali alla gestione delle problematiche legate alla pervasività della patologia autistica, ma non solo, poter fornire ai genitori anche delle nuove strategie per poter stimolare adeguatamente il bambino e portare i genitori a poter stimolare il bambino nell'esplorazione dell'ambiente esterno promuovendo quelle che sono le proprie competenze relazionali e la propria intenzionalità comunicativa. La finalità del processo diagnostico è valutativo e quello di, partendo dalla sintomatologia del bambino e considerando anche tutte quelle che sono le potenzialità del bambino, quello di impostare un intervento terapeutico individualizzato che proietti il bambino verso la zona di sviluppo prossimale, intesa da Vigoschi come quella distanza che intercorre tra il livello di sviluppo attuale e quello di sviluppo potenziale e che può essere raggiunto attraverso il supporto di altre persone adulte poiché possiedono un livello di conoscenza maggiore. Nell'iter valutativo dell'IDO abbiamo una prima fase di accoglienza e conoscenza dell'intero nucleo familiare attraverso la raccolta dei dati anamnestici, poi abbiamo un'osservazione libera che permette all'operatore di poter fare delle prime ipotesi basate sul comportamento spontaneo e quindi sulla qualità relazionale e sull'intenzionalità comunicativa del bambino nei confronti dell'altro, dopodiché si passerà ad una fase in cui abbiamo un'interazione mediata dalla dimensione corporea e ludica. Dopo questa prima fase abbiamo praticamente l'attuazione del protocollo ideato dal LIDO con strumenti specifici per la valutazione globale dei disturbi dello spettro autistico. Abbiamo l'utilizzo dell'ADOS2 per la valutazione della sintomatologia e del livello di gravità nei disturbi dello spettro autistico, la later R per la valutazione cognitiva delle abilità non verbali, quindi quotiente intellettivo, ragionamento fluido e questo test è ideato per quei soggetti che hanno difficoltà nella comunicazione, problemi uditivi o altra tipologia che coinvolge il linguaggio. Woi, ovvero la comprensione degli stati mentali, questo test viene utilizzato per valutare la compromissione della capacità di comprensione delle intenzioni altrui che rappresenta una caratteristica specifica del disturbo dello spettro autistico. Poi appliceremo il TCE, il test del contagio emotivo ideato dalla dottoressa Di Renzo e dalla dottoressa Stinano nel 2014 per valutare la risposta empatica, ovvero la presenza di sintonizzazione affettiva attraverso le risposte comportamentali del bambino ad uno stimolo strutturato rappresentato in una videoregistrazione in cui abbiamo una bambina che simula le quattro emozioni di base, ovvero la felicità, la tristezza, la paura e la rabbia. Poi sarà la volta dell'RCP, ovvero per la valutazione del livello di sviluppo psicomotorio del bambino, la valutazione del livello grafico attraverso il disegno libero e quello della figura umana per valutare la presenza o meno dello schema corporeo. Poi abbiamo lo short sensory profile per la valutazione del profilo sensoriale, l'RBS per la valutazione dei comportamenti ristretti e ripetitivi, il brief P per la valutazione delle funzionalità esecutive, l'ABAS2 per la valutazione del funzionamento socioadattivo. Di queste ultime quattro voci che rappresentano i questionari che fanno parte di questo protocollo e che diciamo vengono utilizzati nel panorama scientifico e nella valutazione clinica sia perché risultano di facile somministrazione perché possono essere compilati dal genitore o da figure che conoscono in particolar modo il bambino, di questi ultimi quattro voci noi oggi parleremo nello specifico dell'ABAS2, del brief P e del sensory profile. Allora per quanto riguarda l'ABAS è uno strumento che viene utilizzato per la valutazione del comportamento adattivo del soggetto che misura appunto le abilità di vita quotidiana ovvero ciò che un individuo è capace di fare senza l'aiuto degli altri. Per comportamento adattivo si intendono l'insieme delle abilità concettuali, sociali e pratiche che sono state apprese e che le persone utilizzano nella vita di tutti i giorni e ci sono due aspetti fondamentali del comportamento adattivo ovvero l'autonomia personale cioè tutte le attività che un individuo svolge nel quotidiano per prendersi cura di se stesso, per gestire la vita domestica e per gestire aspetti di autonomia personale nei vari contesti di vita, la responsabilità sociale ovvero il livello con cui un individuo raggiunge le aspettative interpersonali e sociali per interagire e partecipare con gli altri nella società. Nel 2010 l'American Association on Intellectual Un Developmental Disability ha dichiarato che per classificare e diagnosticare la disabilità intellettiva ovvero uno sviluppo intellettivo al di sotto della media deve essere presente anche la compromissione del comportamento adattivo e l'ICD-10 definisce la disabilità intellettiva come una condizione di interrotto o incompleto sviluppo psichico caratterizzata soprattutto da compromissione delle abilità che si manifestano durante il periodo evolutivo e che contribuiscono a livello globale di intelligenza cioè quelle cognitive, linguistiche, motore e sociali. A tale condizione si associa sempre una compromissione delle capacità di adattamento sociale. l'abbas è composto da cinque questionari il numero di item va da 193 a 241 possono essere questo questionario può essere compilato o dal soggetto stesso o da alcune figure di riferimento quindi genitori, caregiver e insegnanti che possono appunto verificare la presenza o la frequenza dei alcuni comportamenti. Ci sono quattro schede di valutazione che sono divise per fasce di età abbiamo una scheda di valutazione per genitore caregiver 0-5 anni validata per bambini da 1 a 5 anni e 11 mesi, scheda di valutazione per genitori caregiver 6-21 anni validata per bambini e ragazzi dai 6 a 18 anni e 11 mesi, una scheda di valutazione per insegnante educatore 2-5 anni validata per bambini da 2 a 5 anni e 11 mesi e una scheda di valutazione per insegnante 5-21 anni validata per bambini e ragazzi dai 6 a 18 anni e 11 mesi. Lo strumento indica dieci aree adattive riconducibili a tre domini, il dominio adattivo concettuale composto dalle aree comunicazione, competenze prescolari, scolastiche e autocontrollo, dominio adattivo sociale composto dalle aree gioco, tempo libero e socializzazione, dominio adattivo pratico composto dalle aree cura di sé, vita a casa, scuola, salute e sicurezza e uso dell'ambiente e a queste poi si aggiunge l'area della motricità che è limitata alla valutazione dei bambini da 0 a 5 anni e 11 mesi. Tutte le scale poi forniscono un punteggio composito di adattamento generale del soggetto. Adesso andremo a vedere una scheda dell'Abbas, in particolare vedremo la scheda di riferimento 0, 5 anni e 11 mesi e vediamo che andiamo ad analizzare appunto alcune domande a cui i genitori devono rispondere per le varie aree che il questionario indaga. Se andiamo a vedere ad esempio per quanto riguarda la scala della comunicazione, vediamo, guarda il viso degli altri mentre stanno parlando, sorride quando un genitore o un'altra persona gli sorridono, piange o si agita quando è turbato, alza la voce per attirare l'attenzione, ripete parole dette dagli altri, ad esempio dice palla quando un adulto appunto dice palla, segue semplici istruzioni come basta o vieni qui, canta una canzone in parte o completamente, evita di interrompere gli altri stanno parlando, è in grado di dire il numero telefonico di casa. Per quanto riguarda l'uso dell'ambiente, ovviamente questa scala non deve essere compilata se il bambino ha meno di un anno, vediamo, cammina sul marciapiede piuttosto che sulla strada, chiama il genitore quando qualcuno bussa alla porta, bussa alla porta o suona il campanello prima di entrare in casa di altri, resta seduto durante una cerimonia o la proiezione di un film, chiede di mangiare in un ristorante preferito, riconosce il quartiere o la zona in cui la sua famiglia effetto acquisti, ad esempio dove si fa la spesa, guarda in entrambe le direzioni prima di attraversare la strada. Per quanto riguarda anche le competenze prescolari, ovviamente questa scala non va compilata se il bambino ha meno di un anno, anche qui andiamo a vedere qualche domanda, tiene una matita o il pastello con la punta in basso quando devi disegnare, conta tre o più oggetti, tenta di imitare semplici disegni, elenca in ordine le lettere dell'alfabeto, recita filastrocche o canzoncine a memoria, nomina quattro o più forme geometriche, conta dieci o più oggetti senza usare le dita. Come vediamo qui quando i genitori devono rispondere è risponderanno mai qualche volta sempre, quindi metteranno zero o indicheranno zero quando non è in grado di effettuare un determinato tipo di comportamento, mai qualche volta e sempre indicando appunto la frequenza con cui un determinato comportamento viene messo in atto. Per quanto riguarda la vita a casa, anche in questo caso non deve essere compilato se il bambino ha meno di un anno, vediamo tira fuori i biscotti, le patatine o altro cibo da una scatola o da una confezione, accende o spegne la televisione, indica il posto in cui sono riposti i propri vestiti, aiuta altre persone a mettere via i giocattoli, i giochi o altri oggetti, svolge una piccola commissione quando è richiesto, si trattiene dal dare calci o colpire intenzionalmente le cose, si offre di aiutare un genitore o un altro adulto nei loro compiti quotidiani, andiamo a vedere salute e sicurezza, piange o pianucola quando non si sente bene o si è fatto male, se è necessario perché sta male beve lo sciroppo, mostra, indica o dice ad altre persone di un taglio o una contusione o cose simili, permette di misurargli la febbre senza agitarsi, assaggia i cibi caldi prima di mangiarli, evita di gattonare o adampicarsi in posti alti o pericolosi. Vediamo il gioco, gioca con un singolo giocattolo per almeno un minuto, gioca da solo con vari giocattoli e giochi, guarda per qualche minuto come le persone giocano con giochi e giocattoli, sceglie da solo i giocattoli con cui giocare nel tempo, va sui giochi con un adulto, quando gli viene chiesto gioca con altri bambini, chiede che gli venga letto un libro che gli piace, fa semplici giochi con gli amici senza la supervisione degli adulti, la cura di sé, ha cura di sé, beve o mangia volentieri con piccoli incoraggiamenti, dorme la maggior parte della notte senza svegliarsi più di una o due volte, apre la bocca quando gli viene offerto il cibo con un cucchiaio, beve da una tazza o un bicchiere anche se un'altra persona lo deve aiutare, indica e chiede il cibo quando ha fame, va a letto senza o con poche lamentele, siede sul vc o su un vasino senza dover essere tenuto, si veste da solo, si ha bottone vestiti da solo, fa il bagno o la doccia senza aiuto, si lava i capelli senza aiuto, autocontrollo, mostra interessi per un giocattolo o per un altro oggetto guardandolo per qualche secondo, smette di agitarsi o piangere quando viene preso in braccio o gli si parla, sta seduto tranquillamente per almeno un minuto senza chiedere attenzione, mostra interesse per un giocattolo o per altri oggetti indicandoli, sceglie il cibo o la merendina che vorrebbe mangiare quando gli viene data una scelta, segue semplici regole di casa o scuola come non si corre, controlla la propria reazione quando un adulto di riferimento gli toglie un giocattolo o un oggetto. La socializzazione sorride quando vede i genitori, strella o ride quando è felice, alza le braccia per far capire che vuole essere preso in braccio, mostra attaccamento verso i genitori, ad esempio è felice quando tornano, sorride quando li vede, risponde diversamente alle persone familiari o non, limita le azioni degli adulti, ad esempio fa finta di pulire casa o di guidare una macchina, quindi se è in grado di imitare le azioni. Saluta altri bambini, ad esempio dice ciao e la motricità, infine segue con i movimenti del capo un oggetto in movimento, solleva la testa per guardarsi intorno, agita sonagli o altri giocattoli, si mette seduto anche se la posizione è instabile, si mette in posizione retta, si alza dalla posizione seduta, fa arrotolare una palla verso altri, sta sulla punta dei piedi per raggiungere oggetti posti in alto, corre per qualche metro anche se i passi sono instabili. Allora per quanto riguarda in particolar modo queste diciamo ultime tre aree, quindi l'autocontrollo, la socializzazione e la motricità, queste sono aree spesso molto compromesse nei bambini con disturbo dello spettro autistico. Per quanto riguarda l'autocontrollo spesso noi ci troviamo al cospetto di bambini che spesso hanno delle forti reazioni emotive, ad esempio quando gli viene dato un limite oppure quando gli viene modificata una loro routine. Sono bambini estremamente rigidi e quindi diciamo fanno spesso fatica a autoregolare il proprio comportamento in base diciamo a quelle che possono essere alcune stimolazioni che gli vengono date anche in ad esempio situazioni ludiche. Quindi ad esempio anche nella socializzazione sono bambini spesso che ad esempio nelle nostre stanze di terapia possiamo osservare bambini che possono urlare quando gli vengono fatte delle richieste oppure al contrario possono cominciare a ridere senza apparentemente uno scopo ben preciso. Per quanto riguarda sempre un aspetto della socializzazione, ad esempio spesso questi bambini non riescono anche attraverso quello che è il comportamento non verbale come quello ad esempio di alzare le braccia per far capire di essere presi in braccio. Questi bambini possono avere proprio una difficoltà a comunicare le proprie esigenze in maniera adeguata verso i genitori, verso il caregiver, verso l'operatore che appunto lavora nella stanza di terapia. Anche per quanto riguarda la motricità questo è un altro aspetto che spesso è compromesso. Questi bambini ad esempio spesso hanno dei manierismi molto particolari dell'intero corpo, ad esempio possono assumere una posizione sdraiata quando il contesto interattivo non lo richiede. Sono bambini che non riescono spesso a rimanere ad esempio al proprio posto quando viene proposta loro un'attività più strutturata e quindi diciamo queste tre aree in particolare sono delle aree molto compromesse. Le caratteristiche del questionario ABAS riguardano la valutazione completa delle competenze di adattamento in tutto il ciclo di vita, la possibilità di avere più fonti di informazioni concorrenti alla valutazione quindi le informazioni che vengono fornite dal genitore possono essere integrate con quelle svolte dagli operatori e possiamo avere la valutazione del comportamento adattivo del bambino in diversi contesti come la scuola, casa e lavoro. L'utilità di questo questionario è la possibilità di diagnosticare e classificare le disabilità e disturbi misurando la loro incidenza nella capacità di condurre una vita autonoma in soggetti di tutte le età quello di misurare le aree adattive in contesti diversi, quindi scuola, casa e lavoro ottenere un quadro completo delle competenze funzionali di un soggetto e sviluppare piani di trattamento e poter documentare nel tempo i progressi svolti dal bambino. Ora invece passeremo alla spiegazione del secondo questionario questo questionario è rivolto a genitori e insegnanti di bambini in età prescolare dai 2 anni e 0 mesi ai 5 anni e 11 mesi e consente di valutare le funzioni esecutive implicate nei comportamenti osservabili in contesti naturali come la casa e la scuola. Le funzioni esecutive vengono definite come una varietà di processi cognitivi responsabili del controllo, della direzione e gestione del monitoraggio di funzioni cognitive, emotive e comportamentali superiori caratterizzate da processi di controllo volontario e organizzate in funzione di uno scopo orientato alla risoluzione di un problema. Le funzioni esecutive consentono all'individuo di poter pianificare un comportamento, di selezionare gli obiettivi rilevanti, di organizzare soluzioni, di individuare strategie di problem solving, di inibire stimoli concorrenti e controllare e valutare il comportamento attraverso l'automonitoraggio e la consapevolezza di sé. In questo questionario noi abbiamo 63 item distinti in 5 scale cliniche che misurano l'inibizione, ovvero l'inibizione che misura il controllo inibitorio del bambino, quale abilità di inibire, resistere o non agire d'impulso e le abilità nel bloccare il proprio comportamento al momento opportuno. Lo shift che misura l'abilità del bambino di muoversi liberamente da una situazione, attività o aspetto di un problema ad un altro ed include la flessibilità nel problem solving, la capacità di spostare l'attenzione e trasferire il focus attentivo da un argomento ad un altro, la regolazione delle emozioni che misura l'abilità del bambino di modulare le risposte emotive e quindi lo scarso controllo emotivo può essere espresso come una sorta, ad esempio, di esplosività emotiva, la memoria di lavoro che misura l'abilità essenziale per portare a termine attività che richiedono più fasi per essere svolte, quindi non eseguire una sequenza di azioni sia semplici che complesse, pianificazione e organizzazione che misura l'abilità di sviluppare in anticipo le sequenze appropriate per poter realizzare un compito o un'attività, ordinare informazioni, azioni e materiali per raggiungere l'obiettivo. Queste cinque scale si combinano poi per formare tre indici. Abbiamo l'indice di autocontrollo inibitorio che rappresenta l'abilità del bambino di modulare le azioni, le risposte, l'emozione e il comportamento attraverso un adeguato controllo inibitorio e questo indice è composto dalla scale inibizione e regolazione delle emozioni. Poi abbiamo l'indice di flessibilità che rappresenta l'abilità del bambino di modulare in modo flessibile le azioni, le risposte, l'emozione e i comportamenti. Questo indice è composto dalle scale shift e regolazione delle emozioni. E infine abbiamo l'EMI che è l'indice di metacognizione emergente che rappresenta l'abilità del bambino di iniziare, pianificare, organizzare, realizzare e sostenere un problem solving per raggiungere un obiettivo. Questo indice è composto dalle scale memoria di lavoro e organizzazione e pianificazione. Infine abbiamo un composito esecutivo globale che rappresenta il punteggio di sintesi e incorpora le scale cliniche, le cinque scale cliniche del brief. Adesso andremo, vi farò vedere praticamente le domande, alcune delle domande che fanno parte di questo questionario. Abbiamo detto che sono, come vediamo, in tutto 63 item a cui il genitore o il caregiver deve dare delle risposte, ad esempio reagisce in modo esagerato a piccoli problemi. Mai vuol dire che il bambino non reagisce mai in modo esagerato a piccoli problemi. Qualche volta il bambino reagisce in modo esagerato a piccoli problemi, spesso, sempre, il bambino reagisce invece in modo esagerato a piccoli problemi. Oppure non si rende conto di come il suo comportamento disturbi o impastidisca gli altri. Ecco, questo è un aspetto che si riscontra in particolar modo nei bambini bambini che presentano un disturbo dello spettro autistico perché sono bambini che hanno difficoltà a mentalizzare, quindi ad avere una teoria della mente e quindi a mettersi nei panni dell'altro e quindi molto spesso non riescono a leggere le reazioni comportamentali ed emotive che possono avere gli adulti che tentano e si relazionano con lui. Appare turbato di fronte a situazioni nuove, anche in questo caso i bambini con disturbo dello spettro autistico, diciamo essendo bambini molto spesso rigidi, fanno molta fatica ad adattarsi a nuove situazioni, ad esempio mi viene in mente quei bambini che ad esempio a scuola per un motivo o qualsiasi possono trovare o non trovare la propria insegnante di sostegno oppure entrare diciamo in una stanza dove per qualche motivo si è dovuto cambiare ad esempio la disposizione dei mobili. Per questi bambini queste situazioni sono molto turbanti e quindi questi bambini ad esempio possono avere delle reazioni anche esagerate di fronte a questi cambiamenti. Tanto è vero appunto che spesso in questi bambini possiamo trovare delle reazioni di rabbia esplosive. è necessario che gli venga detto di cominciare un comportamento nonostante sia lui stesso a volerlo fare, si crucia troppo facilmente, ha difficoltà a concentrarsi su strumenti di gioco o puzzle o altre attività ludiche. Deve essere controllato con maggiore attenzione rispetto ad altri compagni di gioco. Anche questo è un aspetto che spesso si riscontra ad esempio all'interno delle stanze di terapia, specialmente con i bambini molto piccoli dove diciamo l'approccio è un approccio spesso incentrato sul corpo dove la psicomotricità è parte integrante dell'approccio terapeutico dell'istituto e appunto questi bambini diciamo fanno molta fatica a mantenere una certa attenzione per quanto riguarda ad esempio il seguire determinate regole del gioco oppure sono bambini che per la loro ipermotricità rischiano di avere diciamo delle esplosioni motorie per cui possono attuare dei comportamenti anche molto alcune volte pericolose quindi ci deve essere grande attenzione da parte del terapeuta durante appunto il gioco terapeutico con questi bambini a reazioni esagerate per futili motivi cioè sono bambini ad esempio spesso che hanno una scarsa tolleranza alla frustrazione e quindi fanno veramente molta fatica a tollerare il limite quindi se vengono richiamati o se vengono fermati si arrabbiano moltissimo ha frequenti cambi d'umore sì appunto sono bambini che possono avere esplosioni emotive dovute a degli aspetti disregolatori quindi possono passare dal pianto a ridere è infastidito da rumori forti luci vivaci o da alcuni odori anche questo è un aspetto che poi vedremo anche per quanto riguarderà il profilo sensoriale che viene spesso riscontrato in questi bambini cioè sono bambini ipersensoriali o iposensoriali che quindi possono avere delle forti reazioni diciamo quando perché si spaventano se sentono dei rumori particolari oppure sono bambini che possono avere poche reazioni anche di fronte a rumori che possono essere particolarmente fastidiosi per un'altra persona le reazioni di ira o pianto sono intense ma finiscono all'improvviso anche questo sono aspetti che spesso diciamo di reazioni comportamentali a cui spesso il terapeuta si trova di fronte e quindi questi bambini alcune volte o quando piangono o si lamentano fanno fatica poi a riconquistare a ritornare ad uno stato di quiete e anche il terapeuta alcune volte fa molta fatica a contenere o le urla, i pianti e le reazioni molto forti del bambino o alcune volte il bambino può passare da uno stato di agitazione uno stato di pianto ad uno stato improvviso di calma appunto proprio anche perché sono bambini che hanno delle reazioni alle situazioni che possono essere appunto come vediamo qui più intense rispetto ad altri bambini ha difficoltà a partecipare a eventi sociali non di routine come feste di compleanno e picnic ha difficoltà a portare a termine dei compiti e perde il controllo più dei suoi compagni di gioco si oppone ai cambi di routine questo l'abbiamo già accennato precedentemente come questo quando si parla che dopo aver avuto un problema rimane deluso per molto tempo non riesce a rimanere sullo stesso argomento mentre parla anche in questo caso è una caratteristica comune di questi bambini che fanno fatica diciamo ovviamente a rimanere all'interno di quindi un contesto dialogico adeguato agisce in modo sfrenato o fuori controllo allora queste sono appunto la serie di una delle alcune delle domande che si ritrovano i genitori su questo questionario e a cui appunto devono rispondere e adesso andiamo avanti la valutazione delle funzioni esecutive vediamo che è fondamentale per definire i profili di sviluppo individuale nei bambini con disturbo dello spettro autistico ci permette di identificare il rischio di sviluppare un disagio sociale e ci permette poi di programmare interventi psicoeducativi funzionali e adeguati nel 2016 l'istituto di ortofonologia ha condotto una ricerca intitolata la valutazione delle funzioni esecutive in bambini con disturbo dello spettro autistico in età prescolare utilità e limiti del brief nella pratica clinica in questo studio sono stati coinvolti 46 bambini con disturbo dello spettro autistico di età compresa tra i 23 e i 71 mesi e le finalità dello studio erano quelle di indagare se il funzionamento esecutivo dei bambini fosse corregato al loro livello di sviluppo cognitivo raggiunto alla gravità dei sintomi e al tempo trascorso in terapia e un'altra finalità era quella di individuare il grado di accordo tra genitori e operatori sul funzionamento esecutivo i risultati hanno messo in evidenza che le funzioni esecutive non erano strettamente correlate alla gravità della sintomatologia autistica e quindi vediamo che un minor livello di gravità dei sintomi non corrispondeva a migliori capacità del funzionamento esecutivo nella valutazione delle funzioni esecutive cognitive comportamentali ed emotive l'area della regolazione emotiva era quella maggiormente compromessa e quindi vediamo che bassi punteggi di cosiente intellettivo corrispondevano a profili peggiori di funzionamento esecutivo con presenza di ripetitività e reiterazione per quanto riguarda la concordanza tra genitori e operatori rispetto alla funzionalità esecutiva dei bambini questa concordanza aumentava con l'aumentare dell'età dei bambini e in base al tempo trascorso in terapia ovviamente in questo caso è importante sottolineare il fatto che nell'intervento terapeutico dell'istituto di ortofonologia il fatto che le figure di riferimento quindi i genitori dei bambini vengono coinvolti attivamente e fanno parte integrante della terapia permette piano piano di portare i genitori ad una maggiore sintonizzazione rispetto a quelle che sono le difficoltà ma anche le risorse del bambino e quello di permettere al genitore di essere maggiormente relazioni con diciamo l'immagine reale del bambino e il vero funzionamento del bambino quindi per il genitore riconoscere quelli che sono i limiti ma anche le risorse del bambino gli permette di avere una maggiore sintonizzazione e quindi di avere anche la capacità di poter aiutare meglio il bambino partendo dai propri limiti e dalle proprie difficoltà e quindi avere anche una maggiore consapevolezza rispetto alla funzionalità del proprio figlio adesso passeremo ad indagare l'ultimo questionario si tratta del profilo sensoriale breve questo questionario deriva dalla versione estesa del sensory profile di Dan del 1999 questo questionario è composto da 38 item suddivisi in domini corrispondenti a sette diverse aree che permettono di rilevare la modulazione degli input sensoriali e le risposte emotive e comportamentali associate all'elaborazione sensoriale ovvero il modo in cui il nostro sistema nervoso riceve interpreta e risponde agli stimoli i domini che vengono valutati attraverso questo questionario sono la sensibilità tattile la sensibilità olfattiva gustativa la sensibilità di movimento l'ipereattività ricerca di sensorialità filtro uditivo bassa energia debolezza sensibilità visivo uditiva il tempo per compilare il questionario è all'incirca di 10 minuti e i genitori o i caregiver devono indicare la frequenza con la quale il bambino mette in atto i vari comportamenti sensoriali i punteggi sono assegnati su scheda Likert a 5 punti sempre corrisponde al punteggio di 1 il bambino quando ne ha l'opportunità risponde in questo modo nel 100% dei casi frequentemente corrisponde al punteggio di 2 il bambino quando ne ha l'opportunità risponde in questo modo nel 75% dei casi occasionalmente corrisponde al punteggio 3 cioè il bambino quando ne ha l'opportunità risponde in questo modo al 50% dei casi raramente il punteggio con la 4 il punteggio e il bambino quando ne ha l'opportunità risponde in questo modo nel 25% dei casi e mai il punteggio di 5 il bambino quando ne ha l'opportunità risponde in questo modo nello 0% dei casi le categorie comportamentali che emergono possono essere classificate in prestazioni tipiche prestazioni a rischio e prestazioni atipiche allora più il punteggio è basso e più la prestazione sarà tipica e quindi ci saranno dei profili sensoriali peggiori l'affidabilità dello strumento è dello 0,90% la validità discriminante è maggiore del 95% nell'identificare bambini con e senza disfunzioni sensoriali la coerenza interna va dallo 0,70% al 0,90% adesso andiamo ad identificare andiamo a vedere praticamente alcune domande che sono fanno parte del del profilo del sensori profile per quanto riguarda l'area della sensibilità tattile vediamo esprime disagio durante i movimenti di cura personale sempre frequentemente occasionalmente raramente mai preferisce vestiario a maniche lunghe quando fa caldo o a maniche corte quando fa freddo evita di camminare a piedi nudi specialmente sulla sabbia o sull'erba reagisce emozionalmente o aggressivamente se toccato si tira indietro dagli scrizi d'acqua ha difficoltà nel rimanere in fila o in prossimità di altra gente strofina o si gratta su un punto che è stato toccato riguardo diciamo l'area della sensibilità tattile come però anche per quanto riguarda come vedremo le altre aree sono particolarmente compromesse in questi bambini spesso sono i bambini che fanno fatica diciamo a tollerare il contatto ad esempio con alcuni materiali dei propri vestiti ad esempio alcuni non possono tollerare le etichette che sono diciamo attaccate nelle magliette che indossano alcune volte fanno proprio fatica a tollerare il contatto con la consistenza di alcuni vestiti ci sono alcuni bambini che quando vengono toccati si rigidiscono e si rigidiscono quindi reagiscono anche in maniera molto forte se l'adulto che ad esempio o il genitore che è con lui prova diciamo no a fargli ad esempio dei giochi anche corporei però ad esempio ci sono invece al contrario altri bambini che hanno una propensione verso il contatto corporeo e quindi lo ricercano il contatto corporeo ci sono alcuni bambini che fanno fatica diciamo a tollerare la sensazione ad esempio dell'acqua sulla pelle o al contrario invece ci sono bambini che passano diverso tempo con le mani ad esempio sotto l'acqua per quanto riguarda gli item che si riferiscono a sensibilità olfattiva e gustativa anche questi sono molto interessanti da andare ad analizzare perché evita certi sapori odori di cibo che tipicamente appartengono all'idea dei bambini ha voglia di mangiare solo alcuni cibi specifici si limita solo a cibi con particolare consistenza o temperatura i bambini a gusti difficili soprattutto per quanto riguarda la consistenza del cibo per quanto riguarda quest'area è un'area veramente molto problematica e ad esempio all'interno del progetto tartaruga questa è un'area che viene molto lavorata anche all'interno delle stanze di terapia tendiamo ad esempio a fare delle merende condivise durante anche durante le terapie con i bambini proprio perché spesso questi bambini hanno un comportamento iperselettivo dal punto di vista alimentare tendono a rifiutare cibi che hanno una determinata consistenza ma anche cibi che hanno determinati sapori o addirittura determinati colori sono molto selettivi ad esempio ci sono dei bambini che mangiano ad esempio cibi molto diciamo solidi che possono avere una determinata consistenza ad esempio ci sono bambini che mangiano solamente cracker oppure bambini che appunto rifiutano di mangiare ad esempio la pasta solamente perché diciamo fanno fatica a tollerare ad esempio il colore del sugo oppure il colore rossi del sugo oppure perché fanno fatica a tollerare un determinato tipo di sapore addirittura noi abbiamo avuto bambini che i cui genitori hanno detto che rifiutavano determinati tipi di cibo perché avevano ad esempio una forma per loro molto particolare per quanto riguarda i item riguardanti la sensibilità al movimento vediamo si agita se sente di lasciare il terreno teme di cadere o le altezze non ama le attività in cui è testa in giù per esempio capriole lotta e questa è una cosa anche che visto diciamo l'approccio psicomotorio dell'istituto e il tipo di terapia molto ludica dove viene utilizzato appunto il corpo come strumento relazionale troviamo appunto dei bambini che possono essere ipotonici quindi bambini che fanno fatica a tollerare la proposta di attività di movimento bambini al contrario invece che hanno una grande motricità e anche una certa che sono anche diciamo per certi versi un po' spericolati e che quindi dove il terapeuta deve fare deve prestare una grande diciamo attenzione deve svolgere un lavoro di contenimento però ci sono ad esempio molti bambini che fanno proprio fatica anche a poter fare dei giochi dove ad esempio si finge la lotta dove c'è un determinato tipo di contatto corporeo oppure quando si chiede al bambino di fare ad esempio delle capriole sul tappeto morbido ci sono dei bambini che reagiscono in maniera molto forte a questo tipo di attività per quanto riguarda gli item riferenti l'iporeattività e la ricerca di sensorialità gli piacciono rumori strani cerca di fare rumore per amore del rumore in sé cerca tutti i tipi di movimento e questo interferisce con le routine quotidiane diventa oltremodo eccitabile durante le attività di movimento tocca oggetti e persone sembrano accorgersi di mani o viso in disordine salta da un'attività all'altra così da interferire col gioco lascia gli indumenti attorcigliati al corpo anche in questo caso diciamo sono tutti tipi di comportamenti spesso presenti in questo tipo di bambini come abbiamo detto ci sono bambini che non riescono ad esempio a stare fermi quindi non riescono ad esempio a svolgere delle attività più strutturate specie ad esempio alcuni bambini che non riescono a stare seduti con il terapeuta di fronte che ad esempio gli propone di colorare oppure di fare giochi di manipolazione come quello del pongo o della plastilina o della pasta di sale e quindi sono bambini che tendono ad alzarsi continuamente e ad essere agitati sono bambini che spesso tendono a toccare i diversi oggetti che possono essere posti di fronte diciamo che si trovano sulla scrivania dell'operatore che spesso è anche costretto in alcuni casi a dover togliere per poter meglio catturare l'attenzione del bambino per quanto riguarda poi gli item riguardanti il filtro uditivo vediamo che un item è distratto a difficoltà si avvie molto rumore nei dintorni sembra non sentire non sentire cosa gli si dice quindi non si sintonizza mentre gli si parla e sembra di ignorare l'altro non riesce a lavorare con rumori di sottofondo ha problemi nel completare compiti quando la radio è accesa non risponde al nome in assenza di eventuali difficoltà uditive ha difficoltà di attenzione ecco queste sono aspetti molto presenti dove ad esempio il bambino alcune più delle volte quando è chiamato non non risponde o non si gira verso l'operatore nonostante il bambino non abbia assolutamente alcuna difficoltà dal punto di vista uditivo e ad esempio oppure quando si sta lavorando sono bambini ad esempio che possono essere attratti anche da un minimo rumore e quindi sono bambini che fanno fatica poi a mantenere anche una certa sintonizzazione quindi una certa attenzione e quindi fanno spesso fatica anche a seguire l'attività che viene proposta tra le altre cose nel filtro uditivo appunto ci sono dei bambini che tendono ad esempio a tapparsi le orecchie quando sentono o dei rumori che per noi sono impercettibili oppure quando sentono dei rumori molto forti o al contrario invece possono rimanere ad esempio indifferenti a dei rumori molto forti che possono invece ad esempio infastidire la maggior parte delle altre persone o degli altri bambini per quanto riguarda la scarsa energia e la debolezza sembra avere una muscolatura debole si stanca facilmente soprattutto quando sta in piedi o assume una posizione particolare con il corpo ha una presa debole non riesce a sollevare oggetti pesanti rinforzi per sostenerlo scarsa resistenza facile fatigabilità spesso vediamo che questi bambini possono essere ipotonici quindi tendono a continuamente a sdraiarsi per terra quindi tendono ad assumere delle posizioni particolari con il corpo i cosiddetti manierismi e spesso ad esempio sono bambini che hanno una presa molto debole noi ce ne accorgiamo ad esempio quando facciamo giochi rispetto a passarci ad esempio la palla piuttosto ad esempio anche che utilizzare ad esempio dei colori per poter colorare appunto un disegno vediamo che spesso questi bambini devono essere aiutati dal terapeuta ed essere guidati nel colorare perché hanno una presa molto debole dello strumento e quindi devono essere molto guidati dall'operatore e di conseguenza quindi mostrano spesso di avere una scarsa fatigabilità e quindi devono essere spesso stimolati e motivati per poter portare a termine le attività adesso andiamo a vedere gli ultimi item riguardano la sensibilità uditiva e visiva quindi reagisce negativamente a rumori inattesi quindi ad esempio come abbiamo detto quello di tapparsi le orecchie ad esempio se sente il cane che abbaia oppure se è un rumore improvviso tiene le mani appunto sull'orecchio per potersi dei suoni è disturbato da luci forti anche dopo che gli altri si sono abituati guarda chiunque si muove nella stanza allora vediamo come tutti questi aspetti della sensorialità sono aspetti molto compromessi e quindi diciamo sono rilevanti e rilevabili nei disturbi dello spettro autistico diversi appunto ricercatori hanno rilevato delle alte percentuali di disfunzionalità sensoriale nei bambini con disturbi dello spettro autistico e le aree che erano maggiormente colpite erano la sensibilità tattile la ricerca di sensazioni e il filtro uditivo nel 2017 Lido ha condotto una ricerca sul profilo sensoriale e i comportamenti ripetitivi in bambini con disturbo dello spettro autistico nella valutazione clinica e sono stati coinvolti 50 bambini con disturbo dello spettro autistico di età compresa da 3 e 7 anni e si è rilevato che nel 60% dei casi il profilo sensoriale era caratterizzato da ipersensibilità tattile uditiva ipreattività con ricerca di sensorialità e scarsa energia i risultati di questa ricerca hanno evidenziato che il quotiente intellettivo era la variabile maggiormente correlata al profilo sensoriale e ai comportamenti ripetitivi dei bambini è stato rilevato che un maggiore potenziale cognitivo corrispondeva ad una migliore integrazione sensoriale del bambino e è stato dimostrato quindi che come un lavoro terapeutico a mediazione corporea quindi un lavoro che permette l'integrazione delle varie sensorialità favorisce il passaggio del bambino da una dimensione unidimensionale quindi stereotipata e ripetitiva ad una maggiore possibilità di connessioni emotive e quindi ad una maggiore capacità di elaborazione sensoriale una maggiore pianificazione emotorea e anche una maggiore formazione dei simboli quindi l'importanza di poter lavorare diciamo a livello globale attraverso un approccio emotivo relazionale mediato da l'attività corporea permetterà diciamo al bambino di poter arrivare ad una maggiore integrazione di tutte le sensorialità e poter arrivare anche diciamo alla possibilità di una maggiore simbolicità e quindi formazione diciamo dei simboli con questo si conclude il mio intervento e vi ringrazio per l'attenzione buona giornata a